Lago di Ledro Si trova in una valle sospesa ad un'altezza di 655 metri sul livello del mare tra la valle del Chiese e il lago di Garo Ha una circonferenza di circa 10 km ed è consentita la balneazione Il lago di Ledro ha una forma stretta ed allungata e può percorrere il perimetro in bicio a piedi con un giro d'anello La strada è praticabile senza alcun problema I colori sono muzzafiato e vanno dal turchese al verde esmeralda È possibile anche entrare nella preistoria visitando il museo delle palafitte o praticare il parapendio, vela di trovare semplicemente circondato dalla natura in un ambiente fresco anche d'estate È consigliabile una visita a mezzo largo per vedere i suoi murales Ed è un'altrettanta visita consigliata a Ledro Land Art dove l'arte incontra la natura Il parco d'arte è situato nell'incattevole Pineta del Puro www.ledrolandart.eu Seguimi per altri freschi consigli